Si inizia, si becca avventa il favorito Si si direi in italiano Si parte Match up abbastanza a favore del demone Lo dico con Intanto MiniQ ci da anche lui il suo risultato 2 a 0 Abbiamo tanto per cambiare dei problemi Dei problemi a compilare il nuovo bellissimo strumento di Binary Beast Ma poi qualcuno lo sistemerà per noi Oh Bravo, bravo Sandokan Intanto un che sia solido MBR No Tazzo strano Non mi aspettavo No, no, no Adesso si, c'è ancora una L'ho ricaricata Quindi c'è ancora Entrambi sono lì Bravo, bravo Ci fa quel che basta per me il secondo round Non ti vedo O non c'è vicino o sei spento Ah, è distante, parla Secondo round Ok Il primo sarà giudicato MBR naturalmente Chiara continua la soppressione contro Sandokan Il match up evidentemente a favore di Akuma immagino Si si Lo stunna Jump in, combo Classica Con finale Bello No, non Link Non è riuscito la FADC Ha provato quello difficile Dopo che starta con la bolla in quel modo Puoi fare la combo a pugno forte Intanto Sandokan Chiudi il primo round senza problemi Ad ogni modo MBR è uno che dà spettacolo 1-0 Tanta roba Bravissimo MBR Rivincita No Wiffa il counter hit è molto bello L'antiere scusate Dropa la combo Sandokan Rischia Quel focus molto strano Vantaggio netto intanto per Sandokan Vediamo come butto a terra Bello Si si Non riesce ad attaccare le prese Setup Mi va nella schiena Una bella testata Lì era bene sotto le sue azioni Invece un bel frame trap e funziona No, non riesce a chiudere con l'Ultra 2 Strano Uh, parata, giusto Giusto, giusto Good read Il dash of red di barog è ottimo ma è anche molto lento quindi facilmente visibile Molto MBR non si è lasciato sfuggire l'occasione di pulirlo normalmente Intanto vi annuncio che a breve lascerò momentaneamente il mio posto al caro Gramazio Oh, Gramazio che scalcia e vuole commentare Vuole commentare i match di Caino e di Pan Che giocherà contro di me e Pan tra parentesi Anzi ora andrò a rompergli un braccio in modo tale da poterlo battere senza alcun problema Quindi fate il tifo per Skylook che fino adesso ha commentato qui per voi con noi Grande intanto MBR che fa il cara daemon, il super cara daemon e chiude Ottima giocata di MBR Stretta di mano Davvero solido 2 a 0 usato pulito Secondo Ciao Mitico Grazie di tutto Sempre il migliore Grazie